ciao ragazzi grazie di essere con me oggi oggi è il secondo video con i ployetti in questo periodo lo userò un po' più spesso del solito perchè è una novità, è tipo un nuovo giochino e quindi sono troppo emozionata per non usarlo oggi proveremo insieme alcuni non capisco se è la parte giusta, spero di sì alcuni nuovi suoni di oggettini che ho comprato apposta per il canale ce li ho qui di fianco e questo video non sarà particolarmente parlato ma sarà più concentrato sui suoni vi ricordo anche se non l'avete visto che è mercoledì, oggi è venerdì sapete che io pubblico video ogni lunedì e ogni venerdì e qualche volta al mercoledì un video bonus questa settimana ho pubblicato un video speciale per i 100.000 iscritti di bloopers che spero vi sia piaciuto se non l'avete ancora visto andatela a vedere perchè insomma è veramente carino e potete guardare un po' più di dietro le quinte ok partiamo con il mio suono preferito ok 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 chi di voi come mai ame sono le lip gloss in realtà qui con me ho un secondo lip gloss però non fa un suono così bello questo l'ho preso appositamente per ragionare non sono amata di lip gloss ok ok che chi chi Grazie a tutti. Proviamo l'altro lipgloss per vedere un po' la differenza. Questo fa un suono bello quando è chiuso, viene chiuso. Grazie a tutti. 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 non so se sia lo zoom, non so perchè ho altri uno, due, tre quattro drinker questo qui è un semplicissimo slime qui provo ad allargarlo un po' e ora provo a fare una cosa un po' particolare e ora provo a fare una cosa un po' particolare vi sentite un po' saltate questo sarà bello per le amati tipo dell'ierga non è super particolare non è super particolare non è super particolare il posto è unчики era solo un esperimento ditemi cosa ne pensate e se vorreste vedere un video con un po' più di questo trigger io non so veramente come possa essere quindi non capisco ancora se mi piacciono quindi ditemelo voi ora guardate cosa c'è di nuovo ho comprato ancora una mascherina con le palline in cielo quindi farò un po' di sticky fingers un po' di suono delle palline, cose così un po' di suono delle palline in cielo e quindi farò un po' di suono 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 Grazie. Grazie. Siamo rubriando. Grazie. 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 Buona notte. 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 Buona notte è la cupida. Buona notte. e spero che questo microfono vi stia piacendo quanto sta piacendo a me buonanotte 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 suonitore, suonitore fate dei bellissimi sogni e ricordate perché in questi giorni mi sono ricordata più di una volta che siamo 7 se è incredibilmente fortunato, fortunata ad avere questa vita quindi trattala bene e cerca di non paragonarla agli altri quindi vi auguro una buonanotte e una splendida giornata domani splendida splendida, splendida, splendida e noi ci vediamo lunedì con un altro video vi voglio bene spero che vi abbia una notte oh, è la ristoratrice un bacione che rispira ciao ciao grazie